E' un tema opaco, imbarazzante perché ci sono interessi davvero molto grossi dietro ai complessi industriali e militari, quindi il traffico e il commercio delle armi sono qualcosa che si fa ma non si dice e su cui molti chiudono l'occhio. E' un tema opaco, imbarazzante perché ci sono interessi davvero molto grossi dietro ai complessi industriali, quindi il traffico e il commercio delle armi sono qualcosa che si fa ma non si dice e su cui molti chiudono l'occhio.